buona a tutti ma non ho il drake lani sono adesso è un complimento ai tranzi seremo 6s ragazzi siamo qui in compagnia di papo carl bandit salutate ma ciao ragazzi siamo qui per fare una sfida 2b2 usando solamente i pompa e papo si fa la prima chi si papo lasciamone uno però arrivo perfetto stavo appunto dicendo solamente pompa via con la mimetica incisione ma venne contato quello di do kb si parca aspetta quale è pompato kb ah si 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 è ovvio si vai qualsiasi non c'è chi non c'è è spaccato il filo ti odio no sorry e questo non c'è chi lo so oddio ma per i ricordati di venire mamma mia che si fa un popolo di cose che c'è stato non c'è stato più di papo il titolo ero anche no no raro sd se che così ti fa subito o se che di fredd pulce e bocca che c'è un popolo con due colpi push up asciata ma di un'attività di occupare così sa che come ci sono tutti uccide tutti gli uomini per ora si fa entro a volte che non è che questo è vero che il compo o o lanciano che ho detto ma si è morto racconto e pensi a spaccare il bene per ieri per ieri stai sotto tanto non è vero a 9 no fidati non è sotto mista non è che ho solamente due colpi no dai ma guarda quanta vita c'ha 16 sto pompa l'ho preso ma comunque fa veramente cagare cioè prima che ho sparato due colpi non sei morto cioè che schifo di pompa la secondaria di mira eia papu ma fammelo provare un pompa eia ma c'è cosa c'è no scusa un secondo ma io cosa dovrei far vedere nel video te che fai le kill cam ma no ragazzi questo video è tutto io sto facendo un cazzo mi dispiace se non mi sto facendo vedere una sega però cioè ragazzi non è colpa mia se c'è un tizio che non mi fa vedere niente cioè raga io ci provo a portarvi dei continui a far vedere delle kill ma c'è uno che mi killa qua sta buono un secondo non sta molto ammazzo veramente ragazzi io sai cosa faccio io vi faccio vedere i quadri allora qua c'è una bellissima una grotta anzi un buco qua c'è la torre Eiffel qua c'è un castello qua c'è il cazzafa qua c'è una prostituta non si capisce un cazzo questo uguale a quello un paesino di merda un fantastico piccione perfetto va beh io non faccio niente oh una kill ha fatta sono contento basta ma è buono c'è mi tocca spawn killare per killare io non ne faccio una di kill si va vai io ma guarda come i kill c'è vai sono primo io sono primo io tan 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 mi sale va vai che ho bloccato papu si oh 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 pega uuuuualia a a a a parapapapa uuuualia porco mmm a parapapa ma porco 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 due e vaffanculo e vaffanculo porco porco ma dove cazzo vado da data 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 da riprendiamo porca troia para para pam 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 si no ovviamente ok scappo ma qualcosa che ho individuato ma non c'è nemmeno cosa vuoi fare meglio vabbè è così ma che cazzo è che potenza puoi sapere la figa e lo sapevo il nord e il cacca guarda un amico non ha trovato il contenitore di più orecchio che cosa fare riparo mobile piazzato aria ma dietro non l'hai sentito ma non l'ho sentito ma scusa chi è che ha spaccato ma hai spaccato te prima zia bandit ah ma cazzo dietro no 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 porca troppo ma perchè l'ho sentito davanti io avevo fatto la mia bruttissima tattica la tattica che veramente è una peggiore di ah no è vero peccato chi ha cipiglia lui non ce l'ha ma ti faccio il timer lui neanche ma non ce l'hai ci c'è la pompa eh lo so ma ti faccio il timer no vabbè ancora lui basta e così glielo dici poi zio bandit ma io te lo metti io te lo metto di nuovo l'hai bevinato ok l'ultimo round perchè è troppo in svantaggio 1v2 perchè è veramente incredibile ci fa che un baletto io sono da solo vai ah mia cosa c'entra dove entrate ah beh grazie che mi sposti prego prego c'è di che oh è anche la camera papu vieni da me ha visto che mi hai visto dai non so dove sei eh ah no non c'è no non c'è troppa di cosa di camera è un borsale è un tavolo difficile ti voglio io che f***o io che f***o l'amica dove è che cazzo è che cazzo è stasera oh che cosa wow il bambino è incredibile pam 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 e si fa un scondino e si fa un scondino e basta ragazzi mi dispiace per questo video deve essere un 2v2 ma ovviamente non ce la posso fare a fare un video dove la gente rimane come dove deve essere ragazzi spero che questi video vi sia piaciuto la scelta ecco un commento iscrivetevi alla canale fare un taglio di quante parti che sono crashato è bello salutate ciao